Drunk, drunk, drunk sul Cinema Club in generale, che questa è la maglia che il Premier avrebbe dovuto indossare in questa annata 2019-2020 se avesse continuato con la vecchia gestione quindi ancora in serie B, invece la squadra appunto è fallita il contratto che aveva già fu cancellato e questa è la maglia che il Premier non ha mai indossato e mai indosserà che quindi un tifoso non l'avrebbe mai comprato io l'ho comprata perché costava poco No ma adesso apparti tutto, cioè è un reperto, è un reperto, esatto esattamente, però dubito che appunto ne parlavo con dei miei amici tifosi, ho fatto no me la comprerei mai, sei matto, perché gli mandavo i link la compra te la costa pochissima, ovviamente mi hanno insultato parliamo invece di Chicago e di Chicago Bulls fondamentalmente dell'epica, della storia sportiva di Michael Jordan The Last Dance è uscito ad aprile, in realtà ho detto che doveva uscire a giugno in concomitanza con le finali NBA, è stato anticipato anche per via del coronavirus perché appunto l'NBA ha chiuso ben prima anche del lockdown americano Sì, in realtà poi non ha esattamente chiuso perché è prevista una fase finale c'è questa ipotesi che credo si stia concretizzando di giocare tutto quello che resta dell'NBA dentro Disney World che al momento è chiuso e quindi però sarebbe la struttura per poter ospitare tutte le squadre che andranno ai playoff fondamentalmente in totale sicurezza vediamo se questa cosa dovesse concretizzarsi sarebbe veramente una roba incredibile l'unico incredibile l'unico incredibile dell'assidenza aggiunge anche a tutta la spettacolarità dello sport dell'NBA e di come è vissuta l'NBA negli Stati Uniti veramente uno sport molto americano e spiegheremo anche perché serie in dieci puntate sono praticamente dieci ore di diciamocelo di puro godimento sportivo anche a livello narrativo la serie funziona è molto accattivante prende moltissimo io ho pensato quasi di rivedermela perché ho trovato veramente è molto coinvolgente dieci puntate ah le abbiamo detto parla dei Chicago Bulls diciamo il fulcro ovviamente è Michael Jordan I want you to feel what I feel what time is it game time I want you to feel the tears that I felt when I won the first one those tears and that pain and I wanted that feeling at the end of every year and that's hard it's like a dependency it's always going to be a part of you shot by Jordan good si il fulcro ovviamente è Michael Jordan anche se poi si capisce abbastanza chiaramente nel corso delle dieci puntate quanto questa incredibile cavalcata del dei sei titoli in due tranche da tre titoli consecutivi una cosa mai successa a nessuna squadra nell'NBA sia a merito di un di un ensemble perfetto che è stato costruito nel corso degli anni d'altronde ci sono tantissimi esempi di grandi squadre con all'interno quello che magari è stato uno dei più grandi interpreti del suo sport di tutti i tempi che però hanno vinto pochissimo io personalmente sono un un esempio che cammina perché essendo tifoso del Napoli e avendo avuto la fortuna di avere tra le nostre fila il più grande dio del calcio che sia mai sceso in terra ma di fatto abbiamo vinto meno di quanto avremmo dovuto o potuto due scudetti una Coppa UEFA e due Coppa Italia anzi forse addirittura solo una in questo momento potrei anche confondermi ma anche lì comunque fu il frutto di una costruzione di una squadra nel corso di due stagioni tre anzi non potrebbe essere altrimenti perché per quanto tu possa essere straordinario da solo non si riesce a vincere in uno sport di squadra e le prime sei stagioni di Jordan ai Bulls di fatto lo dimostra sì esattamente intanto partendo dal titolo The Last Dance per chi non l'avesse visto racconta appunto l'ultimo ballo l'ultimo giro di Walzer se vogliamo di questa squadra gloriosa dell'ultimo anno anche di molti dei campioni l'ultimo anno dell'allenatore che allenò questa squadra di fenomeni e da lì il documentario riesce a raccontare molto bene con degli sbalzi temporali flashback e forward la storia di Michael Jordan e dei suoi dei interpreti di quei Chicago Bulls parlo appunto della centralità di Michael Jordan anche perché in realtà il documentario anche se non spunta nei crediti ha tra le case di produzione anche la Jump to an E3 che è una compagnia di Michael Jordan e soprattutto beneficia di 500 ore leggevo di girato durante quell'ultimo anno appunto dei Chicago Bulls che appunto proprio perché Michael Jordan era molto coinvolto e della sua potenza diciamo anche mediatica lui ha detto che appunto aveva consentito a questo girato durante appunto gli allenamenti negli spogliatoi nella vita anche normale della vita della squadra ha detto che si poteva utilizzare soltanto però se lui avesse avuto modo di vedere a consentire all'utilizzo di quello che era stato girato quindi anche lì insomma la grandezza del personaggio che ha consentito fondamentalmente a questo prodotto bellissimo che è anche molto celebrativo diciamoci della figura di Michael Jordan sì è celebrativo però è anche incredibilmente psicanalitico per lui la grandezza e soprattutto l'ego incredibile di Jordan restano però ci sono anche tante crepe che vengono fuori e che ovviamente sono vengono fuori volutamente anche da parte di Jordan stesso sicuramente molto aggiustate per far sì che il suo mito non venga più di tanto fuscato alla fine però c'è una sensazione che io trovo straordinaria ci stavo pensando proprio stamattina Alev dato che dovevamo registrare The Last Dance è un'opera scespiriana in tutto e per tutto Jordan è una specie di strana commistione tra Amleto Macbeth Riccardo III eserilier anche perché è un uomo eternamente insoddisfatto che ha questa ferita indelebile della perdita del padre è un re a cui non bastava il suo regno e che anche quando ha conquistato l'ultimo regno possibile ne avrebbe voluto un altro con dei sudditi che lo adoravano ma in realtà lo odiavano io trovo che sia veramente un'analizzazione straordinaria sotto questo punto di vista che va addirittura oltre la narrazione sportiva stessa che poi è di fatto meravigliosa straordinaria soprattutto nelle parti meno eclatanti e su The Cinema Show Adriano Escolani ha scritto un RT Group che spiega molte cose importanti che vediamo in The Last Dance ma solo per pochi minuti a partire dal management che ha costruito questa squadra andando a prendere non tanto i più grandi campioni quanto i migliori nello suolo che era necessario alla squadra ed è in realtà la cosa più sensata che si possa fare per costruire una squadra vincente e poi soprattutto le intuizioni straordinarie cioè dare la mano la squadra in mano a Phil Jackson che non aveva mai allenato che di fatto pugnala alle spalle il suo capo allenatore in qualche maniera fu però un'intuizione geniale tant'è che Jackson ha dimostrato di saper gestire campioni di questo livello anche dopo Jordan perché poi i Lakers ha vinto a 5 titoli con Kobe Bryant Quando il trust è bruciato, è un po' di shock. Non avevo mai sconso il sconso. Sì, siamo in un'ottima squadra. Quale tempo è il tuo? E io ti dimentico fino ad arrivare al stesso livello con me. E io ti dimentico a 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 me. Diciamo che appunto c'è questa figura che rimane molto nell'ombra, se non veramente per una frase di Scottie Pippen, credo proprio nella decima puntata che quasi lo redime, che appunto Jerry Krause, che sicuramente non è l'artefice, ma tra gli artefici di questa squadra delle meraviglie. Come dicevo, appunto lui è lui a scegliere Jackson per allenare la squadra. E quindi anche tutto quello che ne verrà dopo con la tecnica del triangolo che aiuta anche Jordan a liberarsi un po' più del pallone e quindi giocare un po' più per la squadra e non essere il fenomeno, perché quello era prima che Jackson allenasse. Tutti i meriti anche che vanno a Krause, che viene trattato malissimo dalla squadra. Questo Jordan non ne fa mai un mistero, anzi, se proprio c'è una crepa, diciamo, che si evince dal documentario, è proprio l'odio fondamentalmente che tutta la squadra, Pippen compreso, avevano per questo Krause, ovviamente con gli insulti anche più beceri, alla statura, essendo un omino piccolo, soprattutto in confronto a questi giganti, un po' sovrappeso. Però forse appunto la differenza o le similità che aveva con Jordan era che era una prima donna, anche lui. Anche lui voleva essere, come spiegava appunto benissimo l'articolo che avete pubblicato su Cinema Show, anche lui voleva essere protagonista. E non lo poteva essere, perché Jordan si è preso tutta la scena, si era preso tutta la scena, anche, diciamo, ha ragione, perché con lo spettacolo che dava lui. A me interessava moltissimo anche tutto quello che effettivamente poi è lo sport in America. Ne parlavamo ieri, che ci siamo visti al parco, diciamo, probabilmente... No, attenzione, attenzione, ci siamo visti a parco! A due metri di distanza. Probabilmente con il calcio non sarebbe possibile fare una cosa del genere, almeno con il calcio appunto che conosciamo noi, perché sembra che i campioni dello sport calcistico non abbiano quel carisma che hanno i giocatori di basket dell'NBA. Ma perché Ale? Perché fondamentalmente questa gente è cresciuta con le telecamere puntate in faccia, sin appunto dagli anni in cui erano ragazzini all'università hanno sempre avuto a che fare con la TV, tant'è che molti... Sentivo di Steve Carey che addirittura faceva dei corsi di recitazione per essere più confidente davanti alla telecamera. E questo traspare molto anche in un'epica di documentario come questo che lo rende anche molto più gradevole. Sì, per esempio i documentari sul calcio, parliamo anche del più recente e acclamato proprio il documentario su Maradona di Capadia che io peraltro non ho molto apprezzato ma da tifoso del Napoli francamente è difficile apprezzarlo. Ma anche il documentario su Pelè che era uscito un paio di anni fa e comunque su Amazon e su Netflix ci sono moltissimi originals unscripted sul calcio, sul calcio inglese, sul calcio spagnolo, c'è un documentario su Messi, però no, non riescono assolutamente ad essere ugualmente appassionanti. Credo che una spiegazione molto interessante lo dia proprio un documentario che sta in questo momento su Amazon e su Amazon Prime dall'11 maggio che si chiama In Search of Greatness che è diretto da Gabe Polsky che aveva girato precedentemente un documentario straordinario che si chiama Red Army che è la storia della più grande e vincente squadra nazionale di hockey di tutti i su ghiaccio di tutti i tempi che era nazionale sovietica tra la fine degli anni 70 fino alla disgregazione del muro e oltre in realtà una storia eccezionale che vi consiglio vivamente di recuperare. In Search of Greatness che cosa vuole spiegare? Vuole trovare una spiegazione scientifica all'essere un campione assoluto e lo fa intervistando tre eccellenze in tre sport diversi Wayne Gresky che è stato uno dei più grandi hockeyisti di tutti i tempi Jerry Dice il wide receiver dei San Francisco 49ers e qui parliamo di football americano che ha attraversato due ere dei 49ers quella di Joe Montana quarterback e quella poi di Steve Young quarterback vincendo se non ricordo male tre Super Bowl e poi proprio Pelé ecco tra i tre quello meno interessante è Pelé perché ha meno cose da dire sarà perché probabilmente il calcio è uno sport talmente ancorato al talento puro che è anche difficile riuscire a dare una spiegazione cosa che invece sia il basket che il football che sono giochi molto più schematici da sempre il campione in quegli sport può essere costruito e infatti lo dicevano proprio sia Dice che Gresky io non ero il più veloce il più grosso il più forte ma ho studiato tutto quello che potevo studiare per diventare migliore degli altri Jordan è così Jordan non era il migliore rimbalzista e si è allenato un'estate intera per diventarlo non era il miglior assistant e si è allenato un'estate intera per migliorarlo e così via poi ha avuto la fortuna e il genio di Jerry Krause di avere attorno a sé il miglior difensore forse il miglior difensore di tutti i tempi dell'NBA che è stato Dennis Rotman per quanto pazzo fosse era un giocatore straordinario peraltro tutti erano convinti che non avesse grande sensibilità di mano ma non è vero perché al college segnava una media di 27 punti Rotman quindi non era esattamente scarso Scottie Pippen per me la più grande ala che abbia mai solcato un campo di basket senza alcun dubbio e poi anche tutti gli altri Tony Kukoc è stato uno dei più grandi giocatori di sempre per chi ha la mia età se lo ricordo da quando vestiva la casacca della Beretta Treviso era una squadra incredibile quella Beretta lo era anche grazie a Kukoc Paxton e Kerr che si sono avvicendati senza di loro non avrebbero vinto due anelli NBA Jordan e compagnia questa è secondo me la vera grandezza di The Last Dance che anche se ne parla poco quelli che ti rimangono veramente impressi sono loro ed è giusto che sia così ci sono giocatori che non sono mai stati celebrati ma talvolta basta un rimbalzo ne ha presi pochi Luke Longley che secondo me è una straordinaria pippa ma quei pochi che ha preso li ha presi perché stava in quella squadra sì ricordiamo anche che Dennis Rodman tra le sue peripezie della vita si è anche rotto il pene due volte facendo delle avventure sessuali di cui non vogliamo sapere moltissimi beh insomma lo vediamo accoppiato a Carmen Electra e poi sì effettivamente le sue famose 48 ore in cui è sparito dalla squadra perché doveva andare a rilassarsi un attimo a Las Vegas sono anche molto interessanti le diverse personalità dei giocatori Pippen che sembrava anche quello più preoccupato anche per la propria famiglia tant'è che fu vincolato da un contratto assolutamente ingiusto nei suoi confronti essendo probabilmente il secondo giocatore più forte dell'NBA Rodman con totale la sua follia Kerry invece appunto uno molto misurato anche se poi sappiamo bene nel documentario a un certo punto anche lui esplode e quello anzi aiuterà poi il suo rapporto con Michael Jordan quello che dicevi tu anche col paragone di Maradona che è fatto molto riflettere guardando i documentari è che c'era famosissimo appunto negli anni 90 degli spot pubblicitari be like Michael quindi sì come Michael ma la vita di Michael Jordan non era una bella vita era veramente un veramente un leone in gabbia che forse probabilmente era più rilassato ed era più a suo agio quando proprio quando giocava quindi in teoria quando doveva essere più sotto pressione era più tranquillo perché quello era il suo il suo universo il suo ambiente il resto era sempre praticamente sotto i riflettori era l'uomo più famoso del mondo praticamente un ragazzo che già da rookie da matricola ebbe questo contratto stratosferico con la Nike che lui tra l'altro non amava lui piacevano le Adidas ha pure lì un'intuizione geniale si pensava di vendere 3 milioni se ne sono venduti 160 milioni una cifra assolutamente inimmaginabile anche lì col mondo del calcio cioè io non credo che tra 20 anni i ragazzini indosseranno le Messi o le CR7 le Jordan esistono ed esisteranno per sempre penso sì no su questo sono assolutamente d'accordo cioè Maradona aveva un contratto per gli scarpini con la Puma credo di averli avuti solo io i suoi scarpini no non è vero ovviamente però non c'è lo stesso appeal prolungato nel tempo Jordan è più di un di un campione Jordan è un'icona Jordan è uno che ha ballato con Michael Jackson e si è fatto dirigere da Spike Lee peraltro su Jerry Krauss c'è una cosa molto divertente in Space Jam c'è uno degli alieni cattivi che è Jerry Krauss e che fu e il personaggio fu creato su esplicita richiesta di di Michael Jordan la cosa ovviamente non viene detta nel nel documentario ma è assolutamente così per quanto riguarda il il fatto di avere così tante storie all'interno di un'unica storia questa è ovviamente una delle grandi forze di tutta la narrazione sportiva ed è una cosa che per esempio in Italia noi siamo assolutamente incapaci di fare perché prendiamo il nostro sport nazionale in maniera troppo seria e nella maniera seria sbagliata anche per gli americani è una cosa seria lo sport ma per loro è serio soprattutto dal punto di vista dell'industria c'è uno dei film più intelligenti e avvincenti da questo punto di vista che è Moneyball che racconta esattamente che cosa è lo sport in America oggi è una strana commistione tra genio talento e management ma di fatto è sempre stato così negli anni 40 negli anni 20 addirittura ci fu il primo grande scandalo del baseball i famosi guarda caso Chicago White Sox che sono di proprietà dello stesso proprietario dei Chicago Bulls non so se ancora adesso ma all'epoca lo erano che erano una squadra eccezionale forse ancora pensano tutti che sia stata la squadra di baseball più forte di tutti i tempi ma si vendettero le World Series per cosa perché il Jerry Krauss dell'epoca non li pagava abbastanza management talento e genio sregolatezza ovviamente è una storia che continua che si ripete noi queste storie non siamo in grado di raccontarle ed è un peccato perché io sono sicuro che ne abbiamo tantissime il collega Luca Barnabè di Chuck ha raccontato qualche tempo fa quella che è una storia meravigliosa che sarebbe bellissimo portare al cinema che è quella di Chico Lavaglia Chico Lavaglia è stato uno dei più grandi talenti del basket italiano è anche probabilmente il più sfortunato una storia bellissima e tragica la sua che meriterebbe di essere raccontata in un film fatto come si deve io guardando invece Michael Jordan fumandosi tutti quei sigari ho pensato a Dario Hubner e alle sue 20 sigarette al giorno quando era comunque capocannoniere della serie anche quella è una storia che sarebbe interessante raccontare con un film e dicevo Last Dance comunque veramente ricchissimo di spunti potremmo parlarne però proprio come dicevi tu quando si girava Space Jam che appunto fu l'anno in cui lui poi alla fine tornò a giocare a basket praticamente lui ha deciso che doveva allenarsi dalle 5 del mattino in poi perché doveva riprendere doveva ricostruire un fisico che non era più adatto a quello del basket perché lui aveva allenato per il baseball e doveva rimettersi in sesto quindi lui praticamente 24 ore su 24 si allenava la sera girava faceva le amichevoli con le all-star nel campo che gli studi di produzione avevano costruito per lui per girare il film quindi anche quello ti dà la cifra della grandezza del personaggio Michael Jordan che fondamentalmente poteva permettersi quello che voleva sì devo dire che quando ho visto quella roba che è un palazzetto dello sport che molte città italiane invidierebbero ma lì la questione è semplicemente all'epoca Jordan era quanto di più redditizio al mondo cioè qualunque cosa tu avessi fatto con Michael Jordan ti avrebbe portato soldi a valanga e c'è da dire che peraltro Space Jam è anche un film delizioso e oltretutto con Bill Musay che è di Chicago ed è un grande tifoso dei Boots non a caso è lì oltretutto in quegli anni proprio grazie a Space Jam la NBA fu in qualche modo sdoganata per il cinema pochi anni dopo uscì Forget Pettis una commedia sentimentale con Billy Crystal e Deborah Winkler se non ricordo male in cui Billy Crystal fa l'arbitro di NBA e le sue spalle sono le più grandi stelle del basket dell'epoca in particolare ci sono dei duetti con Reggie Miller che sono straordinati in quel film Reggie Miller che vediamo in The Last Dance come il giocatore che non ha paura di Michael Jordan e già solo per questo bisognerebbe fargli un milione di applausi poi oltre ciò scopriamo anche che Jordan era fondamentalmente uno psicopatico perché era una persona che riusciva a caricarsi quasi esclusivamente con la rabbia il zancore la voglia di rivincita talvolta anche inventandosi le cose e autoconvincendosi che fosse dovere pur di essere carico come una molla al punto giusto sì una macchina da competizione da competitività uno che non poteva fare a meno di trovarsi delle nuove sfide si parla molto spesso di come giocassero appunto a carte i giocatori in aereo per cifre folli mentre poi c'era un gruppetto che giocava ad altri giochi di carte lui arrivava e voleva giocare pure in là lui diceva ma Michael ma perché giocare con noi che noi giochiamo a due dollari a volte no perché io alla fine della giornata io voglio avere i soldi che tu c'hai in tasca questo era una colgione anche un bullo se vogliamo però nel campo era uno che dice appunto diceva io motivo la gente quando la gente non è motivata e la spingo quando non vuole essere spinta questo dà molto anche la dimensione della solitudine del campione un campione sicuramente non amato sicuramente non si è fatto dei grandi amici quando giocava a basket ma tutti gli sono riconoscenti ho trovato anche molto interessante la parte del famoso negato appoggio politico a un politico nero della North Carolina appunto che lui si deviò diciamo la conversazione non volle mai appoggiarlo mentre oggi appunto lo sport magari può sembrare anche molto più politicizzato lui non si interessò di se anche i repubblicani comprano le scarpe che magari oggi farebbe anche un po' pensare che un un idolo veramente come Michael Jordan non abbia voglia di esporsi però anche al tempo stesso uno pensa lui era un giocatore di basket faceva faceva al massimo quello che poteva fare e del resto non si occupava quindi è sempre il limite tra ah perché non ti occupi anche di sport visto che sei un idolo per dei ragazzini e al tempo stesso ah ma forse non dovresti parlarne perché appunto il tuo campo è il basket e basta e lì devo dire che Jordan se la rischiò brutta ma non tanto dal punto di vista della dell'immagine anche perché poi nel documentario lo dice che diede una donazione alla campagna elettorale del candidato democratico nero al senato sì in North Carolina ma all'epoca giustamente non la rese neanche pubblica no la cosa che rischiò era quella di essere in un periodo molto complicato di essere avvicinato in seguito poi in realtà a O.J. Simpson O.J. non era non era un un campione amato o meglio è una situazione è una storia complicata O.J. è stato il più grande campione bianco della storia del football dice ma era nero no non lo era perché non ha mai voluto essere nero O.J. ha sempre cercato di perseguire la sua personale grandezza non viene mai fregato assolutamente niente di appoggiare la comunità la comunità nera lo dimostra il fatto che è stato per dieci anni il testimonial della Hertz quando il noleggio delle auto in America negli anni 70 e 80 era appannaggio quasi esclusivo della comunità Wasp Jordan ha rischiato questo non ci è arrivato perché comunque appunto lui ballava con Michael Jackson e Spike li portava le sue scarpe anche se Spike è dei New York Knicks non è mai stato Ali che pur di perseguire ciò che riteneva giusto è stato lontano dal Zing per anni semplicemente perché non è voluto andare in Vietnam tutti quanti dicono che non ci è voluto andare perché aveva paura non è vero lui semplicemente ha messo in gioco la sua carriera per una cosa sacrosanta ovvero io andrò in Vietnam quando l'America mi darà i miei diritti è un'altra pasta buona assolutamente appunto Michael Jordan forse è veramente un idolo americano un idolo commerciale e di quello lui non se ne vergogna affatto mi pare di capire tant'è che appunto un altro giocatore di basket che adesso è abbastanza in polemica anche con il documentario lui andò alla Casa Bianca e criticò aspramente Bush e poi nel documentario praticamente non viene intervistato ci sono ancora adesso un po' di non dico polemiche però c'è ovviamente il criticismo anche nei confronti del documentario che molti tacciano di essere appunto mera propaganda per Michael Jordan e per l'NBA che dico dal mio punto di vista può anche essere cioè non mi interessa è uno sport veramente è uno sport è uno spettacolo e quindi il documentario secondo me vuole anche sottolineare quell'aspetto lì poi è logico proprio avendo anche Michael Jordan tra i produttori per quanto il documentario racconti anche le parti oscure del personaggio quindi il problema con il gambling con le scommesse tutta la questione del padre non è ovviamente un documentario che fa giornalismo investigativo è un documentario che racconta l'epica di una scuola invincibile di basket e in quello secondo me lo fa benissimo assolutamente ma noi ci siamo appassionati per quello prima di tutto perché anche se cioè quando tu sai come va a finire una cosa e comunque hai la stessa tensione fino all'ultima scena dell'ultima puntata vuol dire che funziona non c'è niente da fare e questo funziona funziona alla stragrande e ti dirò che forse funziona meglio nei flashback che nella cavalcata dell'ultimo ballo appunto anche perché ti dà tutta una una visione della storia americana di quel periodo molto interessante perché l'America prima del secondo mandato Reagan dell'unico mandato Bush senior poi dell'era e dell'era democratica infatti sono molto interessanti quei pochi ma devo dire decisivi gli interventi che fa Barack Obama nel documentario che con Jordan ha giocato quando è diventato poi presidente ci sono le famosissime foto di Obama e Jordan che si allenano uno contro uno e anche questo fa epica Obama lo ha capito benissimo forse lo ha imparato da Jordan il documentario si chiude con un pezzo di hyper jam che si intitola presentenza proprio all'apice del climax di tutta la narrativa presentenza che praticamente riprende anche una frase che viene detta nella decima puntata parla appunto di Jordan che dice molta gente se ne va a vent'anni in India a trovare la pace interiore fa meditazione fa yoga per sentirsi presenti a se stesso Michael Jordan forse più che oltre a essere non erano questioni di essere il più veloci il più bravo a tirare il più bravo a prendere no la sua questione era essere presente vivere ogni giorno al massimo quello è il suo vero talento dice Mark Vansil nel documentario quindi presentenze anche da quel punto di vista si sposa benissimo appunto col pezzo finale che ripercorre quell'ultimo anno e anche tutti gli anni di quei Chicago Bulls che mai più si ripeterono poi no io devo dire le ultime due stagioni le ho vissute in maniera molto particolare perché all'epoca facevo il portiere di notte in albergo e quindi la cosa che mi teneva compagnia all'epoca l'NBA la davano su Telemonte Carlo ancora non si chiamava la 7 credo e se non si ricordo male tra i commentatori c'era sicuramente Ubaldo Scannacatta ma forse c'era ogni tanto anche Federico Buffa ma la cosa straordinaria è che guardare quasi ogni notte da novembre a maggio l'NBA era a parte una straordinaria compagnia ma non c'era spettacolo più grande e non era solo per Jordan quello fu un periodo per il basket americano veramente straordinario e Jordan ha sicuramente aiutato a portarlo in giro per il mondo però anche quelli che lui ha vituperato qua e là nella serie appunto da Reggie Miller da Karl Malone Malone e Stockton forse sono stati tra una delle più grandi coppie dell'NBA di tutti i tempi Drexler che gioveva nei Trailblazers e che lui quasi considera una fantasmagorica sega e che invece era un giocatore incredibile il fatto che comunque ognuno di questi cercava di battere Jordan e veniva poi quasi sempre battuto ha fatto sì che l'NBA sia diventato lo spettacolo che ancora oggi è e che grazie a campioni anche successivi come Ray Allen prima Kobe Bryant Lebron Lebron che segue le orme di Michael Jordan visto che nel 2021 uscirà Space Jam 2 nessuno vuole dire se ci sarà un cameo di Jordan o meno lo scopriremo fra un anno e ciò non toglie che senza Jordan si sarebbe perso sicuramente un pezzo importantissimo di cultura pop degli ultimi trent'anni con Jordan probabilmente ci siamo persi tre o quattro campioni che non sono completamente esplosi assolutamente Ale che voto dobbiamo dare a The Last Dance ma io gli do un nove non gli do dieci semplicemente perché forse poterà spingere un po' di più sull'acceleratore e diventare ancora più dark in alcuni momenti sarebbe stata ancora più appassionante ma è comunque un racconto soprattutto di struttura narrativa talmente magnifico che appunto quando poi lo hai finito c'è soltanto voglia di rivederli sì sono d'accordo anche per me la voglia di rivederlo appunto è tanta darei anche io nove anche perché forse avrei voluto vedere anche un po' più di voci all'interno del documentario di altri appunto giocatori vituperati come dicevi tu da Michael Jordan avere anche una loro testimonianza chissà magari Michael Jordan anche lì ha avuto da ridire ha deciso lui se intervistarli o meno questo non lo sapremo mai comunque assolutamente beh però c'è da dire che la presenza di Isaiah Thomas almeno cioè è importante sono abbastanza convinto che Drexler lo abbiano contattato quando lui gli abbia detto di no perfetto Ale non so di cosa parleremo la prossima volta perché adesso siamo veramente d'accordo ci guardiamo intorno e vediamo va bene alla prossima Ale ciao ciao drunk drunk il Cinema Club grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.